I tifosi del Milan cercano già di ipotizzare quale sarà la formazione del nuovo allenatore Giampaolo. Come anche riportato dalla app di OneFootball potrebbe esserci anche uno scambio importante per quello che riguarda l'attacco, ma ne parlo dopo. Allora, si parte subito da una formazione con uno schema che secondo me, e ovviamente lo dico sorridente, porterà più di una volta il presidente Berlusconi allo stadio. Perché sì, con Giampaolo, si gioca con l'amatissimo da parte del presidente Berlusconi 4-3-1-2. Rui Costa con Scevicinco e Inzaghi. Magari, direte voi, però questa è la filosofia. Trovare un altro Rui Costa, trovare un altro Scevicinco, trovare un altro Inzaghi, che hanno fatto la gioia del Milan dei meravigliosi di Carlino Ancelotti. Si parte dunque dal 4-3-1-2. In porta, ci auguriamo, rimanga Donnarumma, altrimenti se fosse sacrificato, anche se vi abbiamo già detto che lui non vorrebbe andare via, anche perché con Giampaolo potrebbe tornare un suo vecchio maestro a Milanello. E allora ecco che non dovesse andare via Donnarumma, Donnarumma, altrimenti potrebbe esserci anche il lancio di Plizzari, che sta facendo molto bene con la Under, con la Under 20 nel campionato mondiale. In difesa, Milan non avrà più Zapata, Caldara deve recuperare. Si parte da Musacchio, Romagnoli, e c'è un giocatore che vorrebbe come regalo, diciamo regalo di matrimonio, Giampaolo, cioè Andersen, giocatore centrale, che ritiene Giampaolo ideale per i suoi schemi. Potrebbe essere uno dei tre in attesa di Caldara. Sulle fasce, i terzini in Milan li ha, a Calabria, a Conti, di là Riccardo Rodriguez, ancora Strinic, e quindi vediamo quale poi saranno le scelte. Certo che se Milan mi regalasse a tal terzino del Nizza mi farebbe un grande regalo, però i terzini li sceglierà poi. Si parla anche eventualmente di Mario Rui, che ha fatto molto molto bene nell'Empoli di Giampaolo. Vedremo. A centrocampo ecco la rivoluzione. Il Milan giocherà con un centrale, potrebbe essere Sensi, che ama appunto essere il catalizzatore di ogni gioco. Con Sensi come regista potrebbe esserci l'altro regalo di matrimonio, il Belga Pret, con a sinistra. Eventualmente lì bisognerà vedere che giocatore vorrebbe vedere, potrebbe essere lo stesso Celanoglu quando rientra Buonaventura, oppure nel caso, nella non cessione di Chessy, certamente Chessy potrebbe fare la bisogna dell'allenatore Giampaolo. Ecco la novità, il trequartista. A Giampaolo piace ovviamente Paquetà, potrebbe giocare nel suo ruolo naturale, con alternative lo stesso Celanoglu che mi piacerebbe, che mi piacerebbe Giampaolo provasse una volta centrale di centrocampo davanti alla difesa. Come mi piacerebbe, come può assomigliare come caratteristiche a giocatori che sono nati in un altro ruolo, vedi Pirlo, e poi ci sono valorizzati in maniera straordinaria lì. Anche lo stesso Suso potrebbe provare lì dietro le due punte, ma direi che il candidato numero uno è Paquetà. Là davanti ecco lo scambio. Piontek, Cutrone, la coppia di partenza potrebbe essere quella, ma attenzione perché proprio, ripeto anche l'app di OneFootball, ha parlato di un clamoroso scambio con la Roma, con Andresilva che torna dal prestito a Roma, dal prestito dal Siviglia andrebbe a Roma, e Schick che è un giocatore che ha fatto molto bene alla Sampdoria ma inespresso totalmente a Roma potrebbe essere un giocatore che, se tornasse ai tempi proprio della Sampdoria, potrebbe essere il grande colpo dell'estate del Milan. Quindi questa è la formazione. Quindi San Maximen, gli altri giovani? San Maximen potrebbe essere un'alternativa perché può giocare con Piontek e giocare, però direi che è abbastanza un giocatore simile come caratteristica a Cutrone, anche se secondo me meno finalizzatore ma più tecnico. Poi altri giocatori vedremo, certo che con Andersen, Pret e poi magari una punta, il Milan avrebbe già speso il tesoretto consentito dal Falange al Fair Play. Abbiamo un po' sognato, però il 4-3-1-2, Rui Kostashevchenko inzaghi, è ancora nel mio cuore, ma non solo nel mio, anche nel cuore del presidente Berlusconi che finalmente può vedere il trequartista con le due punte. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegari.